Oggi quello che ci fa paura è questo purtroppo tragico messaggio da parte delle Fission e di queste emulazioni di questi baby boss. Io a questi ragazzi dico convertitevi, ritornate in voi e sappiate che Napoli è una città bella e voi attualmente siete la melma umana di questa città e dovete andare via. Noi non scappiamo più e saremo qui a contrastarvi.